Ben ritrovati per un nuovo appuntamento di Coldiretti Flash. Martedì 8 luglio presso il Teatro Reggio Foyer del Toro a Torino si è svolta la serata di premiazione della finale regionale di Oscar Green 2014. L'evento di Coldiretti Giovani Impresa che premia a livello regionale le realtà imprenditoriali capaci di raccogliere e rilanciare le sfide di un mercato innovativo e in costante cambiamento. All'evento hanno presenziato Maria Letizia Gardoni delegata nazionale Giovani Impresa e Carmelo Troccoli segretario nazionale Giovani Impresa, Giorgio Ferrero assessore regionale all'agricoltura e il direttore di Coldiretti Piemonte Antonio De Concilio insieme ai presidenti e direttori delle federazioni provinciali Coldiretti. Tra le realtà cunesi premiate per la categoria in filiera, finalista regionale e l'impresa Settevie del Belbo Società Agricola Cooperativa, rappresentata da Renato Icardi, per la grande capacità di valorizzare e recuperare prodotti di elevata qualità, caratteristici del proprio territorio, per la lungimiranza imprenditoriale nel saper colloquiare con altri soggetti della filiera e per la forza di fare rete attraverso il sistema cooperativistico. Per la categoria non solo agricoltura, finalista regionale e l'impresa Il Casolare Società Cooperativa Sociale ARL, rappresentata da Sergio Gerardi. Si legge nella motivazione per la spiccata sensibilità e predisposizione all'accoglienza della cooperativa, la quale in collaborazione con i servizi socioassistenziali, gli enti locali e le ASL, da tempo si impegna con importanti esperienze di agricoltura sociale, creando posti di lavoro per soggetti svantaggiati e preclusi dal mondo lavorativo classico. Per la categoria menzione speciale paese amico, il finalista regionale è l'ASL Cuneo 1, che sarà anche una delle due finaliste a Roma per la finale nazionale. Ha ritirato il premio Gianni Bonelli. Si legge nella motivazione per il grande impegno nella promozione di servizi innovativi a favore della popolazione all'interno di un sistema che vede l'ente pubblico fattivamente interagire con l'utenza, per la lungimiranza nell'aver compreso l'importante valore del chilometri zero, come meccanismo di identificazione della vera italianità, per l'attenzione e la sensibilità nel promuovere la sana alimentazione, come importante leva per benessere della cittadinanza. Si è svolta nei giorni scorsi l'Assemblea Provinciale di Coldiretti Cuneo, vi è stata l'approvazione del bilancio all'unanimità e l'Assemblea è stata l'occasione per fare il punto sulla futura attività nel servizio, le interviste. Si guarda al futuro, alle prospettive, in modo particolare alla PAC, che è l'argomento di questo periodo, perché in qualche modo la discussione ha portato anche dei risultati positivi. La posizione che ha sostenuto Coldiretti è stata in qualche modo in gran parte accettata, quindi un'individuazione di una blacklist dove sono state inserite delle entità che non possono in qualche modo percepire la PAC, quindi banche, assicurazioni e quant'altro, questo è quanto mai giusto. Un tetto di 500 mila euro, però partendo da 150 mila euro, cominciando a ridurre man mano, e questo è sicuramente positivo, tenendo conto anche dell'occupazione in azienda, quindi fatti salvi i contributi. Questo è sicuramente un aspetto che stava molto a cuore a noi, perché noi che rappresentiamo l'azienda media della provincia di Cuno, ma a livello nazionale, l'azienda media agricola, che basa la sua attività sul lavoro, sulle distintività, sui prodotti locali, sulla tipicità e non su una proprietà assente, istica, che magari fa lavorare con i contoterzisti, di migliaia di ettari, che non vada alla qualità, ma vada soltanto al contributo alla PAC. Per noi la PAC è un elemento di sviluppo, per sviluppare veramente un'identità e una qualità nelle produzioni. E questo in qualche modo la nuova PAC lo ha riconosciuto, e questo è sicuramente positivo. Penso che per quanto riguarda la nostra provincia sicuramente ci sia da essere soddisfatti rispetto a quelle che sono state le conquiste portate a casa. Direttore, abbiamo detto sì, è un momento importante la nuova PAC, però il 22 luglio è lì alle porte, quindi con la Regione bisogna non mollare. Innanzitutto bisogna correre, perché il 22 luglio è la data di scadenza per la presentazione del progetto PSR da parte della Regione, che ovviamente poi dovrà essere osservato e quant'altro, ma finché prenda inizio tutto l'iter questa è la data di scadenza. Oltre a correre bisogna puntare attentamente, osservare attentamente quanto quello che è il progetto, perché deve rispondere nelle sue caratteristiche e poi nella successiva applicazione a quelle che sono le esigenze vere delle imprese. Parliamo un attimo di quello che forse interessa la maggioranza di Cunesi, ovvero che l'abbruciamento non è più considerato un problema, anzi diventa pratica agronomica. Finalmente si è riuscito a divenire ad una soluzione che praticamente definisce non accettabile o comunque possibile l'abbruciamento delle ramaglie o comunque di tutti i residui delle potature, con determinate regole e quant'altro che dovranno anche essere fissate ai comuni, però adesso è possibile. Quindi credo che uno risolva un problema alle imprese, due, si possa anche fare quell'attività che vanno al punto di bruciamento delle ramaglie che evitano anche la dispersione o l'aumento di alcune malattie fungine. Il Vice Ministro dell'Agricoltura Olivero ha annunciato un provvedimento sull'agricoltura sociale a breve, un'altra richiesta che col diretti Cuneo in particolare aveva portato avanti. Noi per primi abbiamo fatto anche una richiesta ben precisa al Vice Ministro Olivero per quella dell'agricoltura sociale. È una necessità sempre più impellente, sempre più importante anche nella nostra provincia, come abbiamo già detto in passato, per andare a cogliere quelle opportunità e soprattutto per dare dei servizi anche in quelle zone e non solo, ma soprattutto in quelle zone che hanno delle problematiche essendo aree svantaggiate, quindi lontano dai centri urbani, lontano dai centri che danno, dove il pubblico dà dei servizi. Col Diretti Flash finisce qui, noi vi diamo appuntamento domenica prossima. Vi ricordiamo anche che questa edizione può essere rivista sul sito www.piemonte.coldiretti.it